L'elezione secondo noi è essenzialmente non valida e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. Vi è una milizia armata composta di cittadini di un solo partito la quale è il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza anche se adesso il consenso mancasse. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza, ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro, noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Le parole che avete appena ascoltato sono state pronunciate dal deputato socialista, segretario del Partito Socialista Unitario Giacomo Matteotti nel suo ultimo discorso alla Camera, era il 30 maggio 1924. Il discorso si protrasse oltre un'ora a causa delle interruzioni violente, frequenti, delle urla che arrivavano dagli scranni dei deputati della destra e una volta ultimato questo discorso Giacomo Matteotti si girò verso il compagno di partito e di banco Giovanni Casattini e gli disse adesso io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate l'elogio funebre per me. Giacomo Matteotti aveva denunciato l'irregolarità delle elezioni che si erano appena svolte nell'aprile precedente, quindi appena un mese prima, elezioni che avevano consegnato una maggioranza schiacciante alla lista del partito fascista e tutto questo in un clima di gravi intimidazioni, di innumerevoli episodi di violenza. Andava dunque messo a tacere e la missione, l'incarico fu affidato direttamente dal Duce con la responsabilità su mandato morale del Duce a cinque sgherri, cinque squadristi che la eseguirono, la eseguirono in piena luce del giorno, il 10 giugno del 1924, sono trascorsi esattamente cent'anni e noi oggi, siamo noi, non vogliamo soltanto ricordare questa morte violenta, è un anniversario netto, vogliamo ricordare soprattutto la vita di Giacomo Matteotti, vogliamo ricordarne il coraggio, la lealtà, la generosità e lo facciamo collegandoci innanzitutto al luogo dove tutto ha avuto inizio, la sua villa, la sua casa natale a Fratta Polesine, oggi monumento nazionale, oggi casa museo, riapre i battenti nel pomeriggio, dopo un restauro, un bel restauro, lì ci attende la nostra Antonella Ferrara. Esatto, Gabriella è da qui che in fondo tutto ha avuto inizio e questa casa ha avuto un ruolo poi per tutta la vita di Giacomo Matteotti. Io sono qui, oggi pomeriggio ci sarà l'inaugurazione, l'accesso al pubblico alla casa museo che dopo il restauro con un nuovo allestimento sarà domani, ma noi abbiamo l'opportunità di farvela già vedere oggi e con noi abbiamo il curatore di questa mostra, Luca Molinari, a cui chiedo innanzitutto, buon pomeriggio a lei, qual è il valore di questo posto nella vita di Matteotti? Beh, è un valore assoluto, nel senso che qui Matteotti con la sua famiglia è arrivato, qui Matteotti è nato, è cresciuto, ha studiato, ha fatto le prime esperienze politiche, ha capito cosa volesse dire legarsi a un territorio povero e sofferente, fare una scelta politica chiara, diventando socialista e da qui è partito per andare in Parlamento, è eletto in questa terra e poi qui è tornato nel 24, nell'agosto del 24, in barra, diciamo morto dopo essere stato assassinato per il funerale e per essere sepolto fra Tappolesini, quindi c'è un legame potentissimo, simbolico, enorme tra Matteotti che si forma e cresce, porta questa terra a Roma e poi dopo torna vittima dell'ecidio fascista. Dove ci troviamo in questo momento? Qui siamo al primo piano, che è il piano più intimo di una casa borghese su due livelli, più tre ormai, dove nel grande soggiorno con la libreria e un pianoforte si affacciavano le stanze dei genitori, dei Matteotti, di sua moglie e dei figli, quindi è veramente il luogo più privato, più intimo, più silenzioso, diciamo così, e in questo luogo noi abbiamo voluto ridare voce ad alcune stanze riportando le voci attraverso la lettura delle lettere, delle corrispondenze tra Velia e Giacomo, tra lui e i figli, la madre, abbiamo riportato la voce in questa casa e questo credo sia una delle cose più belle che dà calore a un luogo che da domestico diventa spazio pubblico. Lei mi raccontava che c'è un crescendo, sono tre piani, lo diciamo, Gabriella, questo è il secondo, diciamo il primo piano, quello sotto che piano è, che ruolo ha e poi andiamo all'ultimo. Allora, sì, è un crescendo simbolico e anche di tensione e di atmosfera. Il piano terra si collega direttamente al bellissimo Gendino che ha la villa e ci racconta del rapporto tra Matteotti, la sua famiglia, il Polesine e la sua prima formazione politica culturale. Il livello in cui siamo oggi, adesso, è il livello familiare delle corrispondenze e poi arriviamo al terzo livello dove da questa luminosità bellissima ci troviamo invece uno spazio più cupo, più scuro, dove si ricordano gli ultimi mesi dal discorso in Parlamento del Maggio all'uccisione e al ritrovamento del cadavere dopo pochi mesi e dove il fatto più importante viene ripreso e di fianco a questo, però questo per noi è significativo, le altre tre stanze portano le voci di alcuni contemporanei che ci dicono quanto oggi la testimonianza, la storia privata, morale, pubblica e politica di Matteotti sia così importante. Quindi abbiamo alcune voci dalla Ponzania, a Concetto Vecchio, fino alla voce della senatrice Segre che, come dire, ha mandato un meraviglioso messaggio che parla della casa e che parla di tutti noi. Ecco, Gabriella, noi vi facciamo vedere un estratto che la Casa Museo ci ha concesso di questa dedica che l'Irana Segre ha fatto e in cui appunto spiega perché è importante essere qui e celebrare qui. Giacomo Matteotti. Questo uomo noi oggi, cent'anni dopo, onoriamo. Fratta Polesine, la sua città, la sua terra, l'onora nel modo migliore con la ristrutturazione di questa Casa Museo che è luogo di memoria, di storia, ma anche di conoscenza e approfondimento. Coltivare la memoria del Novecento, secolo tra i più violenti e drammatici della storia umana, è infatti oggi tanto più necessario. Per questo è così importante questa Casa Museo, perché le visitatrici e visitatori, le ragazze e i ragazzi potranno conoscere e meditare l'esperienza di un uomo che sape riassumere e fondere i valori del socialismo, della democrazia, della giustizia, dell'eguaglianza e della solidarietà. Sicuramente uno dei padri spirituali e civili della nostra Repubblica. Eccoci, torneremo prestissimo alla Casa Museo Matteotti, ma nel frattempo io sono felice di dare il benvenuto qui in studio ad un collega che è un autorevole firma della Repubblica, Concetto Vecchio, concetto ben arrivato a Siamo Noi. L'ultimo suo libro, è anche scrittore concetto pubblicato per Utet, ha un titolo molto felice. Io vi accuso, Giacomo Matteotti e Noi, mi piace col Giacomo Matteotti e Noi, perché va al cuore della questione. Quanto ci interpella con la sua vita, prima che con la sua morte, questo eroe, questo martire che è stato Giacomo Matteotti, questo uomo straordinariamente coerente. A questo proposito vorrei che tu facessi comprendere al nostro pubblico chi era Giacomo Matteotti, da quale famiglia arriva e soprattutto che cosa lo porta, perché sceglie di schierarsi dalla parte degli oppressi, degli emarginati, davvero degli ultimi. Il Polesine è il Polesine dell'emarginazione, dell'emigrazione in America Latina, dei braccianti poverissimi. Questo è uno degli aspetti più affascinanti della biografia di Matteotti, perché Matteotti veniva da una famiglia non borghese, ma che era diventata ricca nel corso degli ultimi anni, erano soprattutto possidenti, la madre aveva un emporio, però appartenivano alla classe agiata. Questa contraddizione di Matteotti, che era un uomo occultissimo, che si era laureato a 22 anni, che aveva moltissime relazioni con l'estero, parlava quattro lingue. Perché un uomo così non diventa un liberale, non si gode le sue ricchezze, non fa il professore universitario? No, si impegna sul terreno, nel fango del Polesine per gli ultimi e diventa un socialista. Questa è una domanda... È la domanda chiave. Una delle ragioni, secondo me, è che c'è il modello del fratello, Matteo, che muore giovanissimo, che era il vero predestinato della famiglia, il vero talento politico, e io penso che l'esempio di questo fratello abbia inciso poi nella... E lui ne raccoglie la testimonianza. Senti, concetto, guardiamo un po' anche al carattere di Giacomo Matteotti, che era un uomo molto lucido, arrivava dagli studi della giurisprudenza, un uomo coerente, dicevamo prima, ma anche un uomo estremamente intransigente, prima di tutto con se stesso, prima ancora che con gli altri. Il che, diciamocelo, non lo rendeva sommamente popolare neanche tra i compagni del Partito Socialista, molto più arrendevoli, accondiscendenti, anche più pavidi, sommamente in viso a Benito Mussolini, che peraltro conosceva Benito Mussolini, che arrivava dalle file del Partito Socialista, a un certo punto si ritrova a combattere a volto scoperto una battaglia durissima e rischiosissima. Da dove gli arriva la forza, in mezzo a tante minacce? Ricordiamo che era anche stato selvaggiamente picchiato, preso a bastonate nel Polesine, costretto a lasciare la sua terra per questo. Allora, la vicenda di Matteotti sfocia nel romanzesco, perché, questo io ho cercato di spiegarlo nel libro, io penso che Matteotti è stato un grande anti-italiano e lo contrappongo nel libro a Mussolini, che invece era l'arci italiano. Chi è l'arci italiano? Quello che ci ha scritto qui sulla maglia Tengo famiglia, che sale sul carro del vincitore. Mussolini sale sul carro del vincitore, persino della marcia su Roma, perché lui attende l'esito a Milano e poi prende il vagone letto a cose fatte per recarsi nella capitale. Matteotti, che veniva come Mussolini dalla provincia, dalla provincia rurale, dalla campagna, erano quasi coetani, entrambi socialisti, diventa il suo più irriducibile avversario. Io penso che questo suo carattere, aspro, molto poco italiano, molto fattuale anche nelle denunce. L'ultimo discorso che lui fa il 30 maggio del 1924, quando denuncia i brogli, è un discorso, è quasi una requisitoria, perché è implacabile, è fattuale, è chirurgica. Lui smonta il fascismo fatto dopo fatto. È esattamente questo che fa paura Mussolini. Grazie Concetto. Poi questo lo approfondiamo anche dopo. Avete capito, state comprendendo quanto veramente Matteotti fosse tra i pochi ad avere il coraggio di affrontare, molto scoperto, il fascismo. Io penso che si farebbe torto però a definirlo un uomo solo, malgrado le difficoltà, perché accanto aveva una donna magnifica, molto, molto diversa da lui, una donna profondamente religiosa, lontana dai dogmi, per questo una donna perfetta, per Giacomo Matteotti. Di Velia Titta parliamo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Eccoci, rientrati in studio, siamo noi. Nell'anno dell'anniversario tondo dell'uccisione violenta di Giacomo Matteotti, 10 giugno 1924, noi abbiamo scelto di farne risaltare pienamente la vita, perché i suoi valori sono valori profondamente attuali, sono testimoniati dagli iscritti, dai suoi discorsi parlamentari, soprattutto delle azioni. Concetto vecchio ha usato un aggettivo spesso interessante e fattuale, tutto è molto concreto. E abbiamo detto che accanto aveva una magnifica donna, una magnifica moglie. Velia Titta, Simone a te. Esatto Gabriella, e vorrei, visto che ci sono, ricordare le sue parole dopo appunto l'assassino del marito rapito e ucciso il 10 gennaio di cento anni fa. Ecco, disse questo, volevo solo giustizia, gli uomini me l'hanno legata, l'avrò dalla storia e da Dio. Ecco, se volete possiamo, chiaramente è una figura straordinaria, avremo modo poi chiaramente di parlarne, ma anche voi siete i protagonisti di questa puntata, quindi aspettiamo le vostre riflessioni, il nostro numero WhatsApp è attivo e attivi ci sono i nostri social e la mail di redazione. Grazie, grazie Simone. Allora, teniamo un riflettore acceso sulla figura di Velia, intanto io voglio presentarvi l'altro nostro ospite che è collegato con noi da Londra, Alfio Bernabei, collega giornalista per Castelvecchi, ha scritto l'estate prima di domani e a Londra ha curato una mostra che è ancora aperta, lo sarà se non sbaglio fino al 13 giugno, che ha un gran titolo, Enduring Tempest, Tempesta che tutto sopporta, insomma Tempesta era il nome, il nome di battaglia, diciamo, attribuito a Giacomo Matteotti. Questa mostra è stata allestita in un luogo simbolo, perché era la casa del littorio, cioè il cuore della comunità italiana a Londra negli anni del fascismo, oggi biblioteca, c'era in crossroad, e allora ben arrivato Alfio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora Alfio, questa mostra è interessante sotto svariati punti di vista, ma c'è in evidenza questa parentesi, chiamiamo così, forse parentesi neanche è, londinese di Giacomo Matteotti. Ci dici sinteticamente, ci fai capire che cosa ci faceva a Londra, mi sembra dal 22 al 26 aprile, due mesi prima della sua uccisione, Giacomo Matteotti, chi voleva incontrare e ha incontrato, se non sbaglio il passaporto non gli era neanche stato rinnovato. È vero, sì, per cominciare vorrei dire ad Antonella che la mostra di cui stai parlando si chiude proprio con la casa museo di Matteotti, così i londinesi la possono vedere nell'ultimo pannello, insieme ad una lettera di Velia Matteotti, che eventualmente a cui posso tornare più tardi. Dunque Matteotti, io mi occupo, e la mostra si occupa, del versante inglese di Matteotti. Cioè lui era già a Londra, mi pare nel 1908, stava studiando giurisprudenza, si ferma ad Oxford e poi si ferma anche a Londra. Mantiene rapporti col partito laborista britannico e succede che lui si preoccupa di contattare, di mettersi in contatto con il partito laborista, con l'independent liberal party che è attinente al partito laborista e con i sindacati britannici. Io nel mio romanzo ho esplorato uno dei primi episodi che collegano Matteotti a Londra e succede questo. Nel 1922 parte da Napoli una nave, questo è anche nella mostra tra l'altro, con una cinquantina di fascisti a bordo. È la prima nave che salpa, in questo caso diretta a Cardiff, con questo tipo di ciurma, di crew. E avviene che i sindacati britannici, avvertiti probabilmente dai socialisti italiani, e quindi ci mettiamo anche Matteotti, e decidono di boicottare questa nave. Qui questo episodio allarma enormemente Mussolini e l'entourage di Mussolini, perché rischia di far precipitare una crisi, siamo nell'agosto del 1922, due mesi prima della marcia su Roma. Sei stato molto chiaro Alfio, diciamo due anni dopo il viaggio, il nuovo contatto con il partito del governo di Ramsey MacDonald di Giacomo Matteotti certo non poteva far piacere a Mussolini. Permettimi di coinvolgere anche il concetto che ti ha ascoltato con molta attenzione. Allora, accennavo a questa parentesi inglese Alfio e anche a quanto è dedicato nella mostra che attraversa le corrispondenze tra Matteotti e sua moglie a Velia. Quanto è stato importante, a tuo giudizio, Velia, questa donna a fianco di Matteotti, consapevole di tutti i rischi che correva? Una donna che poi ha avuto un destino molto triste, perché alla morte di Matteotti intorno a lei è stato costruito un cordone. Praticamente Velia si è trovata agli arresti domiciliari. Spieghiamolo al pubblico, facciamolo capire. Sì, infatti io dedico nel mio libro molto spazio a Velia, perché la loro storia è, secondo me, anche questa è una storia che sfocia nel romanzesco, perché è un grande amore, ma non hanno quasi mai vissuto insieme, perché era un amore che si nutriva nell'assenza. Va detto ad onore vero che Velia ha portato molta pazienza, perché non era facile essere al fianco di Matteotti e ha vissuto in uno stato di grandissima tensione, che prima, durante ovviamente la scomparsa e poi il delitto e negli anni successivi, erano molto diversi, perché Matteotti era un animale politico, era ateo, era tutto preso da questa sua missione, aveva un carattere molto focoso. Lei è una donna religiosissima, però non dogmatica. Non dogmatica, che scriveva poesie, totalmente al riparo da velleità pubbliche. E la cosa, secondo me, straordinaria di Velia è la dignità che mostra di fronte a Mussolini, quando 48 ore dopo va a Palazzo Chigi per chiedere notizie sul marito. Ed è molto interessante lì, di fronte al duce, perché il duce le va incontro e le vuole dare la mano, e lei si rifiuta per restringere la mano a Mussolini. Mussolini, alla fine di questo incontro molto duro, in cui lei lo descriverà uno spettro di terrore, e le promette, lui, Mussolini sa che Matteotti è morto, ha già il suo passaporto, però le dice, stiamo facendo tutto il possibile, signora, non escludo che lo possiamo ritrovare. E alla fine di questo duro colloquio, lei, lui gli dice, accompagni al suo collaboratore, accompagni la signora fuori, lei dice, vado da sola. Poi scende giù nel cortile, c'è l'auto blu, lei si rifiuta di salire sull'auto blu. In quel momento era una donna di enorme fragilità, e aveva di fronte il dittatore. A me questa immagine cinematografica, credo che spiega meglio di tante pagine il carattere di questa donna. E c'è tanto anche da aggiungere, Alfio, sul fatto che, insomma, questa donna poi, quando il corpo, purtroppo, nell'agosto è stato ritrovato alle porte di Roma, ma già, insomma, era di dominio pubblico che Matteotti era stato ucciso, viene isolata da tutti i suoi amici, le uniche persone che incontra sono, a quel che si sa, spie di Mussolini. La sua diventa una non vita. Alfio. Sì, certo. È importante ricordare che Velia si presenta agli investigatori tre o quattro volte, ed è molto, in particolare, mi pare, intorno al 16 agosto, prima del ritrovamento del corpo. Vuole vedere la giacca di Matteotti, che è stata ritrovata, la giacca insanguinata. E cosa dice? Dice che i giornali le stanno mettendo in bocca delle parole che lei non ha mai pronunciato. In particolare dice mio marito non si era mai occupato di scandali finanziari, non era interessato a questo particolare argomento. Mio marito aveva degli altri principi, si preoccupava per il soffocamento della democrazia in Italia. E ci tiene molto a non far depistare le indagini verso l'aspetto scandalistico, ma ad occuparsi preeminentemente del fatto che il suo marito, Matteotti, si preoccupava soprattutto del fatto che l'Italia stava prendendo una pista verso la catastrofe totale. Questo lo fa capire. Grazie Alfio. Questo mi sembra fondamentale da evidenziare, perché fedele a suo marito fino all'ultimo, Velia ricorda tenacemente, lo ha fatto sempre, che il marito ha sacrificato la sua vita per la libertà di tutti. Noi adesso andiamo brevemente in pubblicità, poi torniamo anche alla casa Museo di Matteotti, dove la nostra Antonella Ferrara è in compagnia del professor Giampaolo Romanato, che è anche direttore del comitato scientifico della casa Museo Matteotti. E tra pochissimo. Eccoci, eccoci di nuovo in studio, siamo noi. Giacomo Matteotti sapeva che il coraggio è un prezzo e che quel prezzo, poiché non ignorava i rischi a cui andava incontro, avrebbe un giorno dovuto pagarlo. Sapeva anche che quella era l'unica strada da percorrere per un uomo dai suoi valori e per un socialista. Aveva un motto, un motto che arrivava dalla lettera di San Paolo ai Corinzi, dice tutto, battaglia all'esterno, timori, quindi anche angoscia, solitudine all'interno. Con queste parole torno alla casa Museo Matteotti, a Frattapolesine, torno dalla nostra Antonella Ferrara con il suo ospite. Sì Gabriella, noi intanto ci siamo spostati e qui siamo all'interno dello studiolo. Fa effetto essere qui sicuramente e con me c'è Giampaolo Romanato, che è componente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, nonché presidente del Comitato Scientifico Casa Museo Matteotti. Lei da poco ha ripubblicato, diciamo, ha rimesso mano a un suo libro dal titolo Un italiano diverso, Giacomo Matteotti. Qual è l'importanza nella vita pubblica di Matteotti? Cosa raccogliamo come eredità? Ma raccogliamo tante cose, naturalmente. C'è l'antifascismo, su cui oggi tutti insistono, ed è l'aspetto più noto di Matteotti, ma ci sono altri valori di Matteotti che lo rendono attuale e degno d'attenzione. L'antimilitarismo, l'antibellicismo, il rifiuto intransigente che è entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, cosa poco nota, ma che rende attualissima la figura di Matteotti. Poi c'è, dopo la Prima Guerra Mondiale, dal 19 al 22-23, il fatto che lui ha vaticinato, ha auspicato e sperato nella nascita degli Stati Uniti d'Europa, usa esattamente questa espressione, in chiave antinazionalista. Non è la UE di oggi, però è l'anticipazione di un cammino politico che poi si concretizzerà dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel suo libro lei ha analizzato, voi parlavate, Gabriella, della moglie, di uno scambio epistolare tra Matteotti e la moglie. Cosa è venuto fuori? Aspetti sicuramente inediti dell'uomo, immagino, no? Ma non solo. Ma è venuto fuori intanto l'aspetto privato, intimo di Matteotti che dalla documentazione pubblica, politica, non emerge assolutamente. Era un uomo che aveva messo una barriera fra se stesso e il pubblico. Questa barriera cade leggendo l'epistolario. E poi emergono i costi, un epistolario che è significativo anche per la enorme diversità che c'era fra i due personaggi. La moglie era molto religiosa, molto cattolica, Matteotti era non un ateo, assolutamente no. Anzi c'erano letture spirituali incredibilmente profonde. L'Imitazione di Cristo di Tommaso da Kempies, per esempio. Una lettura da preti, insomma. Però un anticlericale, sì. Quindi proprio la diversità fra i due personaggi permette a un certo punto di scalfire la barriera pubblica e di entrare proprio dentro l'anima dell'uomo. E poi ci sono, emergono da questo epistolario, i costi in mani, veramente in mani, che impose a tutta la sua famiglia, oltre che a se stesso, con la sua scelta radicale di vita. L'impose alla mamma, l'impose alla moglie, l'impose ai quattro figli bambini. Quando muore i figli avevano il primo sei anni, il secondo quattro, e la più piccola aveva due anni, era appena nata. Quindi tanti aspetti anche inediti. Lei mi diceva che c'era qualcosa anche sugli studi giuridici, e qui, Gabriella, vediamo appunto qualcosa delle pubblicazioni, la più importante recidiva di Matteotti. Ma in chiusura le chiedo, cosa ritroviamo anche nella nostra Costituzione di Matteotti? Matteotti è l'anticipatore, almeno della prima parte della Costituzione, quella che riguarda i diritti fondamentali, la libertà di parola, la libertà di riunione, le libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino. È l'anticipatore dell'articolo 11 della Costituzione, quello che dice, particolarmente attuale oggi, l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controverse internazionali. Beh, Matteotti, che si oppone duramente all'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale, anticipa dei 50 anni. Insomma, tante anticipazioni, un personaggio sicuramente importante. E qui, Gabriella, da domani sarà possibile visitare la Casa Museo, e quindi ripercorrere le fasi della vita, anche emozionandosi un po', possiamo dirlo a voi. Grazie davvero, ringraziamo il professor Romanato. Allora, abbiamo una manciata di minuti, vorremmo avere tre ore. Però, io torno da te, Alfio, perché la tua mostra, la mostra che tu hai curato, dovrebbe essere visitata, insomma, per i tanti spunti, per i tanti pannelli. C'è una curiosità, un aspetto interessante che vorrei che tu condividessi. Quando Velia si trova isolata dopo la morte del marito, con questo cordone che le viene messo intorno, ci sono le donne inglesi, donne della sinistra, molte del movimento femminista, del Committee, del Women International, Matteotti Committee, proprio un comitato creato per Matteotti, che cercano di intervenire per spezzare quell'isolamento. Come ci sono riuscite? No, non ci riescono, però l'idea è immaginativa, enormemente immaginativa. Siamo nel 1932 e Silvia Pankers, che è la suffragetta, la classica suffragetta, insieme a alcune dozzine di donne, suffragette britanniche e anche irlandesi, decidono di pubblicare Humanity, che è un giornale, nel quale annunciano l'iniziativa di scendere in Italia e di liberare Velia Matteotti da quella che descrivono la prigionia di Velia Matteotti. Naturalmente questo crea enorme allarme a Roma, proprio nel decennale, tutte queste manifestazioni di festeggiamenti, il trovarsi davanti a questo potenziale di donne inglesi che scendono in Italia, tolgono Velia Matteotti dall'Italia per farne una portavoce antifascista all'estero. Naturalmente l'allarme è enorme. Non possono farci niente perché la casa di Velia è circondata, si è sorvegliata a notte e giorno, ci sono anche dei riflettori fuori dalle finestre, fuori dalla porta, non si può muovere essenzialmente. Quindi no, non riesce. Comunque il tentativo è emozionante, è molto interessante. Davvero, un'emozione che ci hai trasmesso, è bello che lo si renda noto. Siamo in conclusione del concetto. Mi ha sempre colpito che Sandro Pertini ha ricordato più volte che quando ha scoperto che Matteotti era stato ucciso, di corsa ha chiesto la tessera per il Partito Socialista e ha raccontato però di un clima in Italia. Cioè la gente era spaventata, era anche indignata, ha raccontato del caffè che frequentava da giovani studenti a Firenze dove le persone si toglievano il distintivo fascista. C'è qualcosa che si poteva fare diversamente in quel clima che poteva essere più sfavorevole a Mussolini. Un'opportunità che l'opposizione, che i socialisti, i compagni di partito, non hanno colto, secondo te, che avrebbe potuto un po' cambiare il corso della storia perché poi sappiamo la tappa successiva è stato il discorso con cui Mussolini ha inaugurato il nuovo anno, gennaio 25, attribuendosi quasi trionfalmente la responsabilità anche di quel delitto. Beh, col segno di poi, Matteotti aveva ragione, aveva visto prima di altri la gravità della situazione, l'aveva denunciata e era stato il più lucido. Infatti è stato ucciso, le dittature non uccidono a casa i loro avversari. Non viene ucciso a caso Matteotti. La sinistra e i partiti popolari si sono divisi di fronte alla minaccia del fascismo. Molti, anche nel partito di Matteotti, all'inizio erano per, in qualche modo, scendere a patti. Giolitti era convinto che i fascisti si potessero costituzionalizzare nel gioco parlamentare. Matteotti, da questo punto di vista, è tra i pochissimi che capisce che il fascismo è violenza ed è anche un fatto storico. La sua morte però crea un momento di crisi, dei mesi di crisi che si potevano sfruttare. Ma di breve durata. C'è una frase di Longalesi che è molto bella che dice in Italia le crisi morali sono di breve durata. Anche in questo caso lo è stato di breve durata. e poi l'emozione svanisce e Mussolini che vive un momento traballa in quel frangente, in quell'estate, nelle settimane successive al ritrovamento, però in realtà poi già nel gennaio successivo, nel gennaio del 25, fa il discorso di cui avevi parlato tu. E a quel punto diventa regime. Io ringrazio davvero il concetto vecchio che ci ha accompagnato in questa doverosa riflessione, in questo ricordo, in questa testimonianza così luminosa. Ringrazio anche Alfio Bernabei collegato da Londra. Ricordo che l'attualità di Matteotti è anche nel aver capito che libertà, che democrazia non ci sono date ora o per sempre. Bisogna tutelarle, difenderle giorno per giorno. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.